Ce l'ha anche un pregioso per la puntata. C'è un pregioso per la lingua. C'è un pregioso per la lingua. C'è un pregioso per la lingua. C'è un pregioso. C'è un pregioso per la lingua. C'è un pregioso. C'è un pregioso per la lingua. Ci ha scaldato, ci scalda il cuore. Prima di continuare, di andare avanti col prossimo brano, c'è una sorpresa anche per me. Per cui so che è una previazione, ma non so di che cosa si tratta. Per cui adesso ce lo dice Giuliano. Grazie Giuliano. Allora, tanti anni fa da quando ho preso la banda, abbiamo avuto l'avventudine di premiare sempre, ogni anno, diciamo i più giovani, i più giovani che hanno contribuito alla nascita di questa banda. E allora stasera premiamo questi giovani che ci hanno dato la forza, la vita. E per prima cosa è anche un grande amico, questo musicista qua, e si chiama Gabriele Castellani. Vieni Gabriele. Grazie. Grazie. Per l'attestato, Gabriele Castellani, per aver dimostrato se riettava il suo corpo musicale Giacomo Puccini di Vezano Viglia. Ecco, ti dà la medaglietta. Anche, adesso anche un altro, scusate lo cerco, con tutti questi documenti, Euclide Pasini. Mi dispiace che uno manca stasera, non sono riuscito perché il telefono non funzionava proprio in quei posti là di Manarola. Classe 28, quello che fa il presepe era anche lui stasera uno dei premiati, purtroppo lo premieremo un altro giorno, un'altra volta, oppure in banda. Euclide, ecco, l'ha attestato. Aspetta. Aspetta. Ecco. Ecco. Ciao. Bravo. Ecco. Adesso continuiamo la nostra rassegna musicale.